Shalom, Shalom, Shalom e come sempre pace alla casa di Israele a coloro che con sincerità cercano questa verità e fanno arrivare questo messaggio ai quattro lati della terra questa lezione sarà basata sui ploti dei malvagi che sono, sì, coloro i re di questo regno che siamo oggi coloro che governano la terra come conosciamo oggi e non è oltre che la famiglia dei Rothschild e assieme con le altre famiglie dei figli di Esau questa sarà un'altra lezione andare a profondità di questa famiglia e tirarvi fuori un po' di punti di queste famiglie qui ma oggi volevo fare questa lezione qui appunto guardando le cose che stanno succedendo ieri ho guardato il giornale ho sentito parlare il presidente ho sentito anche parlare il ministro della salute e attraverso lo spirito io vedevo che questi uomini erano i figli dei malvagi ok? e tutto ciò che dicevano erano menzogne tutte le menzogne per mettere a disagio per sterminare i figli di Israele perché il complotto di tutto questo virus covid e tutto il resto è tutto per sterminare la stirpe giusta che sono i figli di Israele ok? e ho sentito dire dal ministro della salute ieri che i uomini sono più vulnerabili certo che i uomini saranno più vulnerabili perché una volta che hanno i uomini sotto controllo le donne intanto sono minore non pensano proprio con la loro testa ok? quelli là non sono problemi per essere controllati ma i problemi sono i uomini quindi una volta hanno sotto controllo i uomini allora tutto il resto sarà facile perché l'uomo è la testa della famiglia ok? ed è sotto i Yahuasai Yahuasai è sotto i padri Yahuasai e le donne sono sotto l'uomo ok? per vedere questa cosa qui per capirne di più infatti le donne sono state create per gli uomini per essere servi degli uomini ok? e... sì, so che suona così un po' spiacevole in questo nuovo regno e in questo regno che stiamo vivendo ma originalmente il padre ha stabilito le cose così ok? se volete saperne di più ce ne sono tantissime scritture che parlano di questo iniziando dal libro di Genesi capitolo 3,16 libro di Timoteo capitolo 2,12 i primi Corinzi 11,3-9 comunque forse farò una lezione su questa ok? le donne e la posizione di una donna farò una posizione farò una lezione dai facciamo così facciamo così farò una lezione su su questa comunque voglio concentrarmi su questo perché il tempo sta arrivando il tempo proprio di malizia ok? il tempo di cattiveria proprio il tempo della distesa di Giacobbe sta arrivando ok? il vaccino è pronto e ne stanno già parlando e sarà obbligatorio e ho fatto come avete visto su delle lezioni precedenti che ho parlato su che cosa sarà questo V per mettere a dormire la igiene di Dio che avete dentro ok? perciò siate attenti figli di Giacobbe ok? coloro che lo prenderanno prenderanno il marchio della bestia che è il microchip inizio leggendo da questo libro qui che avete davanti il libro di Salmi 36 inizio a leggere la versetto 1 dice al direttore del coro di Davide servo del Signore l'inequità parla all'empio nell'intimo del suo cuore non c'è timore di Dio davanti agli occhi suoi questo sta parlando della stirpe malvagia e sono coloro che ci stanno congovernando oggi ok? non c'è timore di Dio non c'è timore di Yahweh nel loro cuore perché credono di avere in conto con lo tutto ok? non c'è timore perché non regnano con la giustizia regnano con frode con bugie e iniquità cambiano giro delle cose naturalmente come il padre li ha stabilito e li fanno nella maniera più malvagia possibile perciò vedete che loro non hanno il timore del padre essa lo illude che la sua impietà non sarà scoperta né presa in odio ok? loro credono che nessuno scoprirà tutte queste cose che fanno le parole della sua bocca sono iniquità e inganno e li rifiuta ad essere giudizioso e di fare bene avete visto? ed è questo quello che stanno facendo le parole della sua bocca sono iniquità e inganno tutto quello che stanno dicendo virus qua virus là contagio là sono tutti delle parole dell'inganno ok? e loro e li rifiuta di essere giudizioso e di fare il bene eh sì loro non non c'è giustizia comunque in questa società non c'è giustizia per coloro che credono che ci sia giustizia sicuramente anche anche voi sarete distrutti assieme a questo regno qui ok? i figli di Israele che credono che questo questo regno fa bene si trovano bene vuol dire che la verità non fa per voi ok? il nuovo regno ad avvenire non fa per voi questo regno vi va bene allora sarete distrutti assieme quando verrà distrutto questo perché infatti giustizia non c'è in questa società possiamo cominciare a fare l'elenco infinito delle ingiustizie medita iniquità sul suo letto si tiene nella via che non è buona non odia il male ok? ed è questo è la vera cosa che fanno ok? meditano iniquità sul letto di notte quando noi dormiamo si tengono tutti questi figli dei malvagi di notte fanno riunioni in diversi punti della terra che noi non vediamo che non sappiamo tutti i vostri politici ok? che cosa stanno facendo alla fine? vi danno pressione dall'alto e pressione dal basso ora ho visto stanno parlando dei così chiamati i migrati ok? anche quello hanno aggiunto la politica e vi mettono in una scena davanti ok? quelli stupidi che non capiscono niente e seguono tutto quello che dicono ok? tutto questo per farvi arrendere poi lasciare il potere in mano a loro ok? vi inventano delle cose che non esistono giusto per tenervi in paura in disordine questa è una tattica politica si chiama pressione dall'alto e pressione dal basso ok? creano tutte queste scene scusatemi creano tutte queste scene qui ok? vi danno la pressione dall'alto si parla del covid già la gente è sotto paura ora vi parlano anche dei migrati che stanno arrivando l'influsso e tutto tutto questo permettevi sotto pressione ok? e la gente ormai la gente ormai è finita è finita perché la maggior parte benvenga che saranno distrutti perché sono proprio ignoranti sono pieni di tenebre hanno occhi ma non li riescono a vedere hanno orecchie ma non li riescono a sentire ok? infatti il padre è grande perché ha fatto sì che questa verità non è per tutti non è per tutti è per pochi eletti ok? e voi che fate parte della casa di Israele che non volete svegliarvi adesso quello che sta per arrivare vi lascerà bocche aperte ok? periodi di carestia periodi proprio bruttissimi bruttissimi stanno arrivando ok? è tutto gestito da questo uomo di questa questa stirpe malvagia ok? con tutti i suoi marionetti tutti i suoi tutti i suoi discepoli i politici i artisti famosi i calciatori tutta questa gente qui sono parte della malizia fanno parte del piano ok? sono tutti che fanno parte del piano di questi malvagi qui per portare avanti i loro piani se guardate bene se guardate bene in tv tutti questi calciatori famosi tutto all'improvviso diranno che sono positivi giusto per darvi l'impressione che questa cosa è vera dovete stare sotto ok? viene fuori Valentino Rossi Pellegrini tutta questa gente qui perché loro fanno parte di tutti questi complotti qua ok? e verranno distrutti verranno distrutti assieme ai malvagi se loro non vengono fuori confessano e se loro non iniziano a seguire ok? la verità come si deve dico questo perché so che tra loro sono tantissimi figli di Israele che si hanno la confusione di faccia non si capisce se sono israeliti o no ma loro sanno ok? i massoni che c'è i così chiamati illuminati ok? che non sono nemmeno loro illuminati che questo è tutta un'altra lezione loro fanno i plot di notte come abbiamo visto qui ok? merita iniquità sul letto si tiene nella via che non è buona non odia i male loro non odiano i male loro hanno girato questa società lo hanno girato proprio al contrario hanno dato il potere alle donne che non è creato così dal padre come vi avevo detto prima poi farò una lezione su questa hanno dato il potere alle donne ok? hanno reso uguale l'uomo e la donna che non è proprio confusione questo il creatore ha a che fare con ordine non confusione ok? loro fanno tutto questo per creare confusione ok? dicono che l'uomo può diventare donna e donna può diventare l'uomo ok? tutti questi anni passati avevano i problemi il loro numero uno problemi era dare il dritto ai gay ai lesbian ai transessuali ai pedofili ok? cosa creano? creano solo confusione e distruzione ok? e hanno fatto a posto tutto per distruggere la società come dovrebbe essere vi hanno portato con diversi ingani facendovi vedere i soldi questo diverse cose che non c'entrano nulla con il percorso dell'umanità hanno inquinato l'aria inquinato l'acqua inquinato tutto e vi hanno solo insegnato bugie vi hanno fatto seguire i loro dei perché sono pagani questa gente qui ok? sono pagani sono tutti dei pagani ok? non hanno una verità nella bocca sono pieni di menzogne tutto quello che vi dicono sono menzogne ok? e per raccontare una menzogna uno deve conoscere la verità perciò loro sono proprio una stirpe malvagia e sono sono coloro che si governano questa terra questo 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 regno che siamo adesso ok? leggo un altro versetto così tengo breve questa lezione qui leggo dal libro di proverbi dal libro di proverbi capitolo 10 versetto 30 che dice no scusatemi proverbi 10 versetto 30 il giusto non sarà mai smosso ma gli empi non abiteranno la terra ok? la bocca dei giusti fa fiorire la saggezza ma la lingua perversa sarà soppressa ok? la labbra dei giusti conoscono ciò che è gradito ma la bocca degli empi è piena di perversità è chiaro qui quando parliamo e cerchiamo di spargere questa verità la gente ci prendono per scemi ok? perché sono stati sono stati programmati a pensare così sono stati programmati ci vuole ci vuole la mano del padre per tirar fuori uno da tutte queste menzogne e queste pazzie qui un giorno un giorno vi sveglierete tutti nella verità ok? tanti saranno in vergogna ok? perché alla fine tutti ritorneranno ok? per vedere il nuovo regno che cosa vuol dire essere vivere ok? nel regno del figlio del padre Yahawashai ok? è così chiamato Gesù che Gesù non è non è altro che un inganno un perverso ok? il suo nome è Yahawashai e il nome del creatore non è Dio il suo nome è Yahawashai ok? guarda leggervi un altro versetto e chiudo il libro di Isaia capitolo 47 e sempre il versetto 10 tu ti fidavi della tua malizia e dicevi nessuno mi vide la tua saggezza e la tua scienza ti hanno sviato e tu dicevi in cuor tuo io e nessuno altro fuori di me ok? questi sono loro coloro che stanno guidando il mondo adesso perché hanno messo ci hanno chiuso gli occhi di tutti attraverso una cosa e l'altra hanno messo una realtà che non è ok? perché loro sono saggi perché conoscono bene le cose e vi ho detto prima per riuscire a dire una bugia bisogna sapere la verità che la verità la conoscono loro loro sono sanno che sono i figli di Esau i figli di Esau erano pagani seguivano diversi dei ok? erano erano proprio perversi questa gente qui ok? seguivano tutti i dei delle altre nazioni diversi dei e loro hanno un dei loro che devo fare una una lezione anche su questo ok? e loro si dice qui la tua saggezza e la tua scienza scienza conoscenza ti hanno sviato e tu dicevi in cuor tuo io e nessuno altro fuori di me ok? si sentono i migliori nella società ok? ormai questi immigrati per loro che maggior parte di questi immigrati sono i figli di Israele che sanno di aver distrutto la terra di questa gente sanno di aver fatto tutte le cose per renderli più poveri sotto la società ok? continuano dunque ok? a credere a vederli come nulla ok? si credono in migliore si credono diciamo il popolo scelto il popolo migliore ok? detto questo io non sono d'accordo che che i immigrati ok? vengono illegalmente in questo paese ok? perché alla fine anche questo paese è alla sua fine ok? ma quello che dico bisogna conoscere la storia ok? conoscendo la storia aprono tutti diversi diverse finestre ok? intanto questa terra non è nemmeno la terra dei romani ok? lo avevano conquistato da altre persone che sono intruschiane questo sarà tutta una tradizione e questa legge di migrazione è stata creata sempre loro l'hanno sempre creato mi sa dopo la prima guerra mondiale per favorire il nascondimento dei nazisti che sono anche una stirpe dei malvagi ok? attraverso i poteri del papa per nascondere tutte le menzogne che hanno fatto e per girare la storia di tutto comunque leggo no va bene questa lezione volevo fare tutta un'altra lezione ma mi sono concentrato a leggere questi versetti perciò questa lezione sarà fatta in due parti farò un'altra lezione appena che ho fatto una scopertina attraverso l'Apostolo Aramla che è la Great Millstone e la condividerò detto questo spero che siete stati edificati e un avviso ai figli di Israele che sentono parte di questa chiamata grande da Yehawah Shai nostro re rendentore svegliatevi svegliatevi non c'è nulla da perdere in questo 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 regno perché questo regno è degenerato è finita questo regno ok detto questo do tutti i lodi al Padre Yehawah Bahashem Yehawah Shai Bahashem Rukak Wadash ok e mi do più onori agli apostoli per avermi insegnato questa verità alla prossima Shai Lohan